Avevo mandato Barry in città a cercare informazioni su qualcuno che somigliasse al rapitore. Avrebbe spulciato gli archivi dei giornali locali. Forse avrebbe scoperto qualcosa, qualunque cosa, sull'isola e il cottage scomparsi. Quell'uomo voleva un manoscritto. Dovevo scriverne uno per salvare Alice. Per me, il soprannaturale non era che una metafora della psiche umana, uno strumento per scrivere romanzi. Ora, invece, era tutto vero e non riuscivo a scrivere una singola parola. Barry Wheeler, pronto? Sono Rose. Rose? Ho trovato il manoscritto. Lei è una ragazza davvero speciale. Lei e il signor Wake, potete venire a prenderle. Vivo nel camping appena fuori città. Saremo là tra meno di un'ora. Arrivederci. A presto. Buona giornata. Torni a trovarci presto. Benvenuto alla tavola calda, oh dear. Brava ragazza.